E noi invece continuiamo a sbagliare invece di parlare dell'immensa truffa monetaria che sottrae all'Italia quasi 100 miliardi di euro, moneta palesemente falsa all'anno solo di interessi e che ogni anno, anno dopo anno, spariscono dalla circolazione 200 miliardi. Il che ci sta portando alla disperazione più totale ed è la constatazione che il debito globale di 700 mila miliardi di dollari a fronte di un reddito mondiale annuo di 70 mila miliardi. Noi cosa facciamo? Come degli emeriti di otti continuiamo a parlare dei temi secondari che le fettenzie ci propinano. Disquisiamo di capri ignoranti, specchiarsi no, di partito podda o compassione per chi lo nomina, di razzismo, termine che non appartiene alla gente, di immigrati, conseguenza delle miserabili azioni dell'elite, di corruzione, infinitesima goccia nell'immensità del mare, di illusorie e speranze distribuite da un certo partito che è presente il Parlamento con 25% riescono ad essere influenti, un miracolo inspiegabile, di pseudo-indipendentismo dalle corte vedute, oltre che dalla corta memoria e dal coraggio di magnifici leoni dagli artigli sempre affilati, ma che non graffiano mai, le cui azioni non si concretizzano mai, di stupende espressioni di rancore sordo verso il colonizzatore che intanto se ne sta tranquillo e beato perché non viene colpito certo da parole bellicose buttate al vento, ma che viene colpito da azioni pacifiche e concrete, di opzioni tipo canton marittimo da considerare sì, ma assolutamente sì, ma non da incensare a priori. E continuiamo a parlare di destra e di sinistra, di ideologie create dalle fettenzie per disunirci, di femminicidi e adozioni strane, di insulti al proprio fratello che dimostra di essere un pochino critico riguardo ai migranti, ma che non è certo razzista, termine che a noi gente comune assolutamente non appartiene. Questi sono tutti i temi proposti dalle oligarchie fettenziarie che ci riempiono il cervello di melma per non lasciare spazio a temi fondamentali. Mai una volta che si vada dritti al problema, mai che si parli delle reali esigenze della gente, esigenze di libertà, mai che si affrontino argomenti in modo razionali. La litigiosità spicciola e gratuita prevale sempre. Poveri noi se non lasciamo spazio cerebrale ai temi veramente importanti, ci domineranno in eterno stando così le cose. Auguri, continuate a parlare di coppie gay, di falso buonismo, ad affrontare temi fondamentali viene mal di testa per chi non è abituato a ragionare senza usare termini proposti dall'elite finanziarie.